Questo è il quadro a fronte di tanti beni sequestrati, pochi quelli già assegnati. Come mai? Lo chiediamo al prefetto Corda. Benvenuto. Grazie. I beni sono molto complessi, nel senso che ogni bene ha la sua caratteristica negativa. Ogni bene presenta delle difficoltà, deve essere ristrutturato. Abbiamo tanti beni che sono presenti in piccoli comuni. Questo rende difficile davvero la destinazione di questi. Ma io credo che con un'attività interistituzionale, soprattutto con la sensibilità che i comuni stanno mostrando in questo momento su questo tema, si possa davvero andare avanti velocemente. Nell'ultimo periodo sembrava che ci fosse stata un'accelerazione su questa assegnazione. Questo sì, perché abbiamo avuto modo di utilizzare il sistema delle conferenze di servizi che hanno reso i tempi molto più ristretti, con una manifestazione che viene esposta nel momento in cui questi beni vengono presentati. Ma questo è stato reso possibile con l'intervento dei nuclei di supporto presso le prefetture, che hanno preso contatto con i sindaci nei quali sono presenti questi beni e hanno dato luogo a loro la conoscenza della tipologia del bene stesso. Ma come poter rendere produttivi questi beni? Immaginiamo che servano degli investimenti iniziali, ci sono dei fondi sufficienti per questo? Certamente c'è una necessità di grandi investimenti. Le regioni in questo momento si stanno muovendo in modo molto forte, anche la regione Lazio, che devo dire è estremamente sensibile su questo tema, si sta muovendo nel tema degli investimenti. Ma io credo che un altro tema importante sia quello dell'affiancamento nei confronti degli enti locali per la loro attività progettuale. Soprattutto i fondi europei sono presenti. Il PNRR in questo momento, come dicevano il servizio, beneficerà le regioni meridionali, ma sarà senz'altro un momento molto importante. Importante per la collettività. Roma da pochi giorni si è dotata proprio di un forum cittadino per la gestione di questi beni. Di che strumento si tratta? Io credo che sia uno strumento molto importante, perché rende intanto la coscienza sulla complessità del bene e sulla complessità della sua gestione. E poi rende, come dire, consapevoli sia i soggetti istituzionali che quelli del terzo settore su cosa deve essere fatto, non soltanto per la ristrutturazione, ma soprattutto sul riutilizzo del bene medesimo, che è veramente la cosa più complicata e certamente molto importante. Grazie, perfetto, è davvero buon lavoro. Grazie.